Ciao a tutti ragazzi, io sono Pagni Riccardo del mio mondo giocoloso, il mio, il nostro, il vostro canale YouTube sul fantasticoso mondo della giocoleria. Faccio questo video per dirvi che sono ancora vivo, purtroppo farò un video schifoso fatto col ciolare che tremerà sempre così e vi farà venire mal di testa, scusate i capelli. E ragazzi, faccio questo video per darvi una veloci sua informazione. A parte il fatto che sono ancora vivo e l'ho già sottolineato, volevo dirvi che avrei molto 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 piacere se veniste a farmi compagnia alla convention di giocoleria di Brianzi, di cui l'anno scorso vi ho portato ben due video, uno in cui vi faccio vedere tutta l'esperienza e uno secondario in cui vi parlavo un po' di come l'ho recepita e vessuta io. E quest'anno tornerò ancora, la convention comincerà il 29 aprile e finirà il 3 maggio, le giornate più belle saranno sabato e domenica, sabato dove ci sarà un mega spettacolo fantastico che ho ammato la foglia l'anno scorso, mentre domenica ci sarà la parata e passeggiata, la sfilata dei giocolieri per tutto il paese. E mi farebbe tantissimo piacere se qualcuno di voi venisse a farmi compagnia così ci conosciamo di persona e giocoliamo a più non posso. Allora, vi lascerò qua sotto tutti i link possibili, io sarò là, arriverò il giovedì sera, quindi arriverò in ritardo di un giorno, ecco, e sarò fino a domenica sera e sarei molto molto felice, come ho già detto, di incontrare qualcuno di voi. Già l'anno scorso che eravamo in 600 iscritti più o meno, eravamo in 600 giocolosi, ho avuto il piacere di incontrare alcuni che mi conoscevano per il canale YouTube, che è una roba come dire cosa, non sapevo come reagire, mi imbarazzavo tantissimo. Quest'anno arriverò, quest'anno ho veramente voglia di incontrare qualcun altro di voi giusto per chiacchierare, capire cosa, cosa, perché seguite i miei video e soprattutto se vi sono utili, e soprattutto avere dei consigli da parte vostra su come riuscire a migliorare sempre nel spiegare i video attraverso una videocamera, e soprattutto abbracciarvi e farci delle lunghe lunghe chiacchierate giocolose. Ragazzi, ci vediamo prestissimo, perché ben presto riuscirò a ritagliare sempre più tempo per fare i video, come mi ero ripromesso e come vi avevo già spiegato che farò i prossimi video, e ci vediamo a Brianza, ragazzi, buona giocoleria!